La flotta giapponese domina i mari d'Oriente, navi da guerra nipponi che pattugliano il Pacifico Meridionale. Nemico in vista, tutti al posto di combattimento. Le navi si apparecciano alla battaglia. I velivoli spiccano il volo dalle porta aerei. Una possente squadra aerea accorre per partecipare alla battaglia. La lotta è impegnata. La lotta è impegnata. In undici mesi di combattimento, i marinai nipponici hanno gravemente menomato l'efficienza della flotta nordamericana del Pacifico, affondando sette corazzate, dodici portaerei, diciassette incrociatori, tredici cacciatorpediniere e sei sottomarini. Grazie. 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 Grazie.